Musica Gentili ascoltatori buona giornata da Sensitiva Locchi oggi volevo parlare appunto del caso di Ivan, il ragazzo giovane chitarrista scomparso da tre giorni da ciò che ho potuto vedere sia con la radiestesia, con gli arcani sia maggiori che migliore che minori ho visto che purtroppo il ragazzo non ho buone notizie da dare perché per me ci sono delle responsabilità purtroppo signori a mio parere è stato ucciso, questo io ho visto, questo io vi dico poi in cuor mio quando parlo appunto di queste cose spero sempre di sbagliarmi perché appunto un ragazzo giovane spero tanto di sbagliarmi, comunque questo è il risultato della radiestesia, di quello che ho fatto, di quello che ho visto e niente, attendiamo che qualche elemento, spero a sbucciardare la mia tesi che invece viene ritrovato vivo e che stia bene ma ci credo poco ecco, di nuovo amici buon proseguimento di giornata a tutti da Sensitivo all'occhi di Civita Vecchia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!